Allora, nascondi Alex, nascondi Martino Ehi, tu sai, fai anche il narratore Allora, devi guardare la telecamera e raccontare dove siamo Aspetta, 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 uno, due, tre, ciao, vai Porta Allora Allora, la giocaksi Allora, la gioca Allora, la gioca La gioca La gioca La gioca Martino Alex Pelen di gioca Pelen di gioca E dice, ehi là! Facci il commentatore, dai! Siamo in Madagascar, una bellissima isola africana. E a un certo punto, su una spiaggia bianca vellutata, appare un leone disperato. Aiuto! No, mi hanno lasciato solo! Ma a un certo punto... Marvin, dove sei? Avvio! Ti dico, è colpa tua! E non è colpa tua, in realtà se proprio vogliamo dire, sei tu che per il tuo compleanno volevi tanto andare in Madagascar. Io stavo bene a New York. E non è colpa, no! Questo è un flashback. È un flashback del mondo. Ti è stato anche regalato un termometro rettale, da Melman. Ecco. Ti hai prontamente sputato. Ma com'era la porta? Buona! Oh, ottimo! E i due sulla spiaggia si rincorrevano come due amici. No! Ti mangio, ti mangio, ti mangio! Che era? Alex rincorreva e Marty scappava. Poi a un certo punto... Non mi ricordo più. No, chi arriva? Chi arriva? Gloria! Gloria? 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 Gli animali di New Yorkesi arrivarono dentro la foresta, dove trovarono... dove sentivano dei suoni tribali. Si avvicinarono pensando di trovare degli umani, invece c'erano degli... Ehi là! E si avvicinarono per cercare di fare il primo contatto con questa nuova specie, Alex si propose come intermeditore. Ehi là! 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 Buona la prima...